Andiamo con i prossimi. Astrodist con tuo snake, così di prepotenza. Gigi, Gigi. Ok, tu ci sei, Astrodist dov'è? Eccolo qua. Grande frate. Ci siamo ragazzi, siamo ancora caldi? Siamo ancora caldi? Mega rime stasera, mega rime. Allora, comincia Astrodist. Ok. Ci sei Vicky? 3, 2, 1, manda la Vicky! 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 3, 2, 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 manda la Vicky! 4, manda la Vicky! 4, manda la Vicky! 4, manda la Vicky! 5, manda la Vicky! 5, manda la Vicky! 5, manda la Vicky! 5, manda la Vicky! allora, allora, oggi presenti tu, allora ragazzi, facciamo insieme, allora ragazzi, non posso urlare ma con te è pronto, allora ragazzi è ora di scegliere uno che passa, un vincitore, ecco come si dice, se avete preferito alla mia sinistra, Astrodis, fate casino il mio 3, 1, 2, 3, e ora sembravi proprio Master 5, io sono più grasso e più bravo, è un pochino più di stile magari, allora, se invece avete preferito il buon Snake, fate casino il mio 3, 1, 2, 3, basta il turno Snake, basta il turno Snake,